Alfonso Dapice e la scenata di gelosia a Federica Petagna, non ci sarò mai più per te, scegli Stefano. Al grande fratello, la gelosia di Alfonso Dapice potrebbe rappresentare un ostacolo al suo ritorno di fiamma con Federica Petagna. In queste ore, i due hanno avuto un acceso confronto.Il Jeffino ha accusato la concorrente, quando parli con me sembri una persona, e quando non ci sono ti comporti in un altro modo? Federica ha chiarito, non siamo fidanzati.Federica Petagna vuole riflettere.In questi giorni, Alfonso Dapice sta soggiornando nel Tugurio con alcuni suoi compagni di avventura. Federica, invece, è nella casa. I due hanno provato a comunicare attraverso la porta. L'uomo ha chiesto alla Jeffina, hai avuto fastidi? Riferendosi a Stefano Tediosi. Federica ha replicato, è tutto normale, stiamo parlando. Così, Dapice l'ha accusata, quando parli con me sembri una persona e quando non ci sono ti comporti in un altro modo? Federica ha colto l'occasione per chiarire, non siamo fidanzati, mi sto prendendo del tempo per valutare tante cose. La reazione di Alfonso Dapice.Alfonso Dapice non ha creduto alle parole di Federica. Tempo per te stessa vuol dire tu da sola dunque si aspetta che la ragazza si isoli per riflettere, anziché chiacchierare con Stefano. Petagna ha replicato, qua dentro è impossibile stare sola. Poi, la nuova stoccata di Alfonso. Io mi sono esposto perché tu avevi detto che avevi chiuso definitivamente, mi avevi detto di aver chiuso al 100%. Federica ha precisato. Si sono andata lì per chiudere. Però poi mi fanno delle domande, devo rispondere e analizzo anche le mie risposte. Se mi chiedono, quella persona ti è indifferente al 100%, non posso dire di sì. Non lo è. Alfonso ha replicato, allora non sei sincera al 100%. Io non la penso così, non è questo il modo di vivere e di comportarsi. Mi stai facendo un discorso completamente diverso da quello che mi hai fatto due giorni fa. Ma la Jeffina ha chiarito, io ti ho detto che ho chiuso ma tu sei stato il primo a dire, non sento che hai chiuso quella cosa al 100%. Mi avevi chiesto di non parlare con lui, ma io ti avevo detto che non poteva essermi indifferente. Da picce non ci sta. Ti avevo detto di non farmi esporre, perché dopo questa cosa se finisce tra noi non potrà mai esserci più nulla. Sei arrivata quasi a questo. Avrei dovuto sentire tante altre parole e vedere tanti altri comportamenti. Mentre sto di qua, tu mi dici che stai parlando con lui. Non è questione di essere sincera, è che non lo dovresti proprio fare. Non gli hai detto, anche se mi scrivi la lettera è inutile perché adesso nella mia testa che è un'altra persona e tu non mi interessi proprio. E ha concluso, avresti dovuto dirgli toglitelo dalla testa, tra me e te non ci sarà nulla. Questa frase che è un non che, Federica ha replicato, non ti posso rispondere, così il Jeffino si è spazientito, allora non ci sono io e non ci sarò mai più, mi dispiace. Visto che devi scegliere per forza qualcuno perché sola non sai stare, fai così, scegli lui. Ciao. E si è allontanato dalla porta. Lapidaria Federica, sei un bambino.